lui è poco m5 grandi aspettative su questo smartphone dopo il successo dei suoi predecessori sulla fascia entry level e fascia bassa in realtà c'è anche un altro smartphone oltre a lui si chiama m5s che a vedere le specifiche tecniche e il design non ce l'ho ovviamente in mano non l'ho provato sembra proprio un rebrand del redmi note 10s quindi un buon smartphone costa 20 euro in più di lui insomma magari nelle conclusioni vediamo se potrebbe valerne la pena intanto torniamo a lui perché alcune cose interessanti da dire ma quale sarà la sorpresona del titolo vediamo un po' se indovinate prima di tutto esteticamente non è male c'è anche in altre colorazioni tra cui quella gialla classica poco in nero invece un pochino più elegante è completamente in plastica però la parte posteriore ha questa texture che simula un po' la pelle però non è morbida è grandicello pesa 200 grammi sulla mia bilancia considerate che lo schermo è da 6,43 pollici però ci sono un po' di cornici specialmente nella parte bassa il frame è squadrato seguendo un po' la tendenza attuale e sul tasso di accensione è integrato un buon lettore di impronte digitali molto veloce e preciso la parte anteriore invece quelle che mi ha convinto di meno esteticamente perché c'è questo noccia goccia che insomma ormai ha fatto un po' il suo tempo in display è un full hd con refresh rate a 90 hertz appunto 6.43 pollici non è male però il picco di luminosità non supera i millenit è un pochino basso forse quindi la leggibilità all'aperto non è delle migliori anche perché lui forse è tarato in modo un po' conservativo per risparmiare batteria anche se vi assicuro che non ce ne sarebbe affatto bisogno e dove sta questa sorpresona? qui incredibile ma vero qua c'è un sensore di prossimità fisico non c'è più quel sensore di prossimità virtuale che abbiamo visto sugli Xiaomi sui Redmi sui Poco negli ultimi due o tre anni favoloso incredibile non so perché su questo smartphone in trilevel sia stata fatta questa scelta se sia l'inizio di un nuovo percorso o se sia puramente un caso però qua funziona benissimo e oh forse ce ne siamo veramente liberati la scheda tecnica è da entry level c'è un Mediatek Helio G99 4 GB di RAM LPDDR4X 64 o 128 GB di memoria UFS 2.1 vi consiglio senza ombra di dubbio il 128 GB costa 20 euro in più però sono ben spesi perché come vedete basta veramente poco per andare a saturare i 64 GB e io non è che abbia fatto tante foto e video a livello di prestazioni fa quel che può ci vuole un po' di pazienza perché soprattutto nel passare da un'app all'altra quando non sono già aperte in background ci mette un pochino ma credo che insomma se siete smanettoni non vi rivolgereste in ogni caso a questo tipo di smartphone per il resto la parte telefonica funziona bene è un dual sim tra l'altro dual sim fisico con anche lo slot per espandere la memoria prende nella media direi senza infamie senza lode a livello di connettività ci sono alcune cose che non ho capito per esempio il processore dovrebbe supportare il wifi AC però lui non sono riuscito a farlo collegare alla rete a 5 GHz ecco a proposito di 5 GHz qui lui non supporta il 5G che non c'entra niente con i 5 GHz ma supporta solamente le reti 4G e qui c'è un'altra cosa che non ho capito perché non sono riuscito a farlo collegare al 4G+, quindi con aggregazione delle bande lui rimane sempre in 4G può darsi che ci sia qualcosa da limare dal punto di vista software sotto questo punto di vista e spero insomma che lo possano aggiornare comunque in questi giorni farò ancora alcuni test poi nella recensione scritta vi lascerò qua sotto in descrizione vi lascerò tutti i dettagli in più con una prova un pochetto più lunga la batteria è da 5000 mAh ed è eterna io sono riuscito a fare due giorni davvero senza nessun problema avevo ancora un pochetto di margine a livello software abbiamo la MIUI 13 che è basata su Android 12 non chiedetemi info sugli aggiornamenti perché con poco è difficile dare un giudizio diciamo che tendenzialmente dovrebbe ricevere almeno un major update quindi Android 13 e un paio d'anni di patch di sicurezza ma ci sono smartphone della stessa azienda del passato che hanno ricevuto un solo update o nessuno nella versione base diciamo gli entry level comunque qui abbiamo una semplificazione della MIUI con alcune funzioni in meno ma nel complesso rimane un software secondo me gradevole e molto personalizzabile il launcher è quello poco che è efficace devo dire nella sua semplicità out of the box avrete un bel numero di app preinstallate che dovrete preoccuparvi di disinstallare se non vi interessano più che altro occupano inutilmente un po' di spazio che insomma fortunatamente potrete recuperare fotocamere c'è una principale che è un Samsung da 50 megapixel credo sia il JN1 F1.8 senza stabilizzazione ottica poi c'è una macro da 2 megapixel a fuoco fisso e un sensore di prossimità da 2 megapixel le foto sono scarsine ma tutto sommato sono anche in linea con i prodotti di fascia bassa appena usciti ecco forse prendendo uno smartphone magari dello scorso anno di fascia superiore che ormai è sceso di prezzo potreste avere dei risultati migliori anche rimanendo in casa Xiaomi ecco sono abbastanza sgranate un po' povere di dettaglio c'è anche un po' di rumore anche quando c'è buona luce i selfie idem la fotocamera è da appena 5 megapixel i risultati li vedete non andiamo un gran che bene di notte poi la qualità scende ulteriormente diciamo pure senza troppe remore che non è uno smartphone per fare foto di qualità anche se magari con qualche aggiornamento potrebbe migliorare in particolare spero migliori un pochino nei video perché ora come ora lasciano molto a desiderare manca qualità dell'immagine manca la stabilizzazione e la risoluzione massima è il full hd a 30 fps insomma per le foto non è un gran che non è un gran che come prestazioni però tutto sommato è solido ha una super batteria non è un prodotto adatto a tutti ma d'altra parte costa poco e insomma quindi bisogna anche un po' accontentarsi quanto costa? beh ho creato uno specchietto qui perché insomma sono tanti e variegati i prezzi come vedete c'è poca differenza con il POCO M5S che secondo me potrebbe essere una scelta leggermente migliore anche se di fatto è uno smartphone dello scorso anno però insomma siamo lì alla fine come vedete ci sono anche delle buone offerte io ve lo consiglio senza dubbio sotto i 160 euro 170 di più probabilmente si trovano smartphone migliori anche in casa Xiaomi per esempio il Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 dello scorso anno che sono ormai scesi di prezzi anche alcuni prezzo e anche alcuni Xiaomi degli anni passati bene direi che per il momento è tutto fatemi sapere che cosa ne pensate se vi è piaciuto questo video un bel like e iscrivetevi al nostro canale io sono Matteo noi ci vediamo ad un prossimo video ciao